ebbene a tutti ragazzi benvenuti al mio canale questo oggi siamo solo video e siamo solo la vittoria di sebastian fettel al gremio di singapore raga raga vittoria mostruosa davvero sondosa pure quindi raga complimenti a sebastian fettel complimenti a charles clark complimenti alla ferrari che ha fatto una strategia pazzesca però secondo me è stata aiutata molto delle tre safety car che sono uscite perché gli hanno fatto risparmiare un bel po di giri sulla gomma secondo me raga perché secondo me a fine gara andavano molto 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 in crisi quindi all'ultimo l'hanno aiutato e fa che gli ultimi giri sebastian fettel ha cominciato a fare giri veloci giri veloci giri veloci giri veloci giri veloci tantissima roba sebastian fettel ciò può anche a charles clark ottimo max westappen le mercedes anonime quest'oggi non mi sono piaciute non ci sono state quasi mai in partita oppure quasi mai in gara visto che parliamo di formula 1 quindi ottima ottima prestazione della ferrari mi ha piaciuto moltissimo e ha vinto grazie alla strategia ai box anche se poteva banalizzare la moto se non c'erano le safety caro almeno questo è il mio parere poi potresti che che non sia così attenzione nulla è detto quindi raga sebastian fettel è la prima vittoria dell'anno quindi tantissima roba la cantissima roba charles clark un altro ennesimo podio max per stampa anche lui ennesimo podio sono contento per la red bull e sono soprattutto contento per la ferrari visto che sono tipo solo ferrari sono un ferrarista quindi yes che dire se questa reazione vi è piaciuta se noi parlai che potete sapere qui sotto i commenti della posta iscriviti al canale attuale la campanina e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi